Buongiorno e benvenuti alla prima lezione di storia dell'arte sulla preistoria. In questa lezione vedremo alcune manifestazioni artistiche delle origini. Prima di cominciare però sottolineiamo che per gli storici la nascita dell'arte non è un fatto secondario perché questo evento è letto come uno scatto di civiltà in quanto presuppone uno sviluppo del cervello tale da considerare gli aspetti simbolici della realtà e non solamente quelli pratici. In questa prima immagine vediamo una rappresentazione fantasiosa della preistoria che però ci permette di fare alcune considerazioni. La scena è tratta da un fortunato cartone animato, i Flintstones, che però fornisce al grande pubblico una visione distorta del periodo che stiamo considerando. Infatti uomini e dinosauri non si sono mai incontrati, al massimo si può notare la contemporaneità tra uomini e mammut che scomparvero attorno al 3000 a.C. quando ad esempio cominciò a svilupparsi la cultura egiziana. In questo grafico si vede molto bene il periodo relativo ai dinosauri e alla comparsa dei primi ominidi. Tutto ciò che è anteriore alla comparsa dei primi uomini è oggetto di studio di discipline come la paleontologia e non rientra nella nostra trattazione, che ha invece come oggetto lo studio dei manufatti e di tutto ciò che è relativo all'attività creativa umana. Consideriamo ora la seguente cronologia che come tutte le cronologie è una suddivisione di massima in quanto alcuni passaggi di civiltà possono presentarsi in luoghi diversi della terra anche in epoche molto lontane. Il termine preistoria indica il periodo prima della scoperta della scrittura, un periodo molto lungo che può essere ricostruito solamente attraverso i reperti archeologici. La preistoria si divide in paleolitico che significa l'età della pietra vecchia, mesolitico che è un'età di mezzo e il neolitico età della pietra nuova. Questa differenziazione si basa sulla capacità umana di lavorare la pietra che va sempre di più verso una specializzazione e un'accuratezza della lavorazione. Attorno al 4000 a.C. si assiste al passaggio della lavorazione della pietra a quella dei metalli per cui abbiamo l'età del rame, del bronzo e del ferro. Con quest'ultima età siamo attorno al quinto secolo a.C. più o meno nell'epoca della cultura greca e romana. E vediamo ora qualche oggetto relativo al paleolitico. In queste due immagini abbiamo un chopper, termine inglese che significa ascia, e una migdala, termine greco che designa una mandorla. Questi utensili avevano scopi diversi. Il primo poteva essere usato come arma o serviva a raschiare le pelli, il secondo era una sorta di coltello. E passiamo ora ad analizzare le famose veneri preistoriche. Questo termine è ovviamente moderno per indicare delle statuette femminili che dovevano rappresentare l'immagine tipica o simbolica della donna. Notiamo prima di tutto che le raffigurazioni si assomigliano molto, anche se sono state rinvenute in zone dell'Europa, anche molto distanti fra loro. Questo perché in queste statuette venivano messi in luce gli elementi femminili che sono relativi alla procreazione, quindi fianchi e seni, mentre risultano solamente abbozzati gli altri elementi anatomici. Le statuette erano infatti utilizzate come una sorta di amuleti e piantate per terra come per rendere fertile il terreno, così come era fertile il corpo della donna. Questa ipotesi è stata suggerita dalla tradizione che fa precedere le veneri allo sviluppo dell'agricoltura. L'uso che abbiamo descritto esprime più che una raffigurazione artistica una pratica magica e infatti le prime manifestazioni grafiche o scoltorie sono certamente legate alla magia. Nella foto successiva vediamo proprio questo uso. Si tratta di graffiti che rappresentano degli uomini in una scena di caccia. Questo perché si riteneva che raffigurare uomini animali nell'atto di cacciare donava maggiore forza ai cacciatori e indeboliva gli animali, in una sorta di azione a distanza che si riscontra ancora oggi in alcune forme di magia rituale. Anche nell'immagine successiva si riscontra la stessa finalità. In questa immagine tuttavia notiamo anche una certa capacità artistica che permise all'ignoto artista stregone di servirsi delle asperità della roccia per realizzare una rappresentazione credibile dell'anatomia dell'animale. Nella prossima immagine vediamo un bicchiere campaniforme che però ci testimonia un passaggio successivo rispetto al bisonte precedente. Qui siamo già nel Neolitico e la presenza di una decorazione geometrica testimonia che l'ignoto artista ha acquisito ormai la capacità di rappresentare non solo oggetti che vede realmente ma anche di immaginare forme non presenti in natura, in questo caso i rombi. Siamo passati quindi da una rappresentazione detta mimetica della realtà ad una rappresentazione simbolica tipica di una mente più evoluta. Ci vediamo alla prossima lezione.